Vediamo oggi 11 posizioni per inserire il modulo di opt-in e aumentare le conversioni. La lista dei contatti e la capacità di interagire con questi contatti sono le cose più importanti che possiede ogni azienda nella faccia della terra. Con una lista di contatti a cui poter scrivere e con cui poter interagire si può resistere a qualsiasi tipo di crisi. E il form di opt-in è forse lo strumento principale attraverso il quale si possono costruire delle liste degne di questo nome. Quindi l'obiettivo nostro è quello di far crescere la nostra lista. Per capire immediatamente a scanso di equivoci adesso ho una foto qui che vi fa vedere un modulo di opt-in in versione mobile. Quindi qual è l'obiettivo di questo modulo? L'obiettivo di questo modulo è far crescere la nostra lista di email. Probabilmente se pensate di partire oggi a costruire la vostra lista troverete mille scuse e desisterete subito. Fatto sta che il miglior momento per iniziare a costruire la propria mailing list probabilmente era davvero 15 anni fa. Ma il secondo miglior momento per iniziare a raccimolare email e raccogliere email a cui poter scrivere è sicuramente oggi. Quindi cerchiamo di capire come impostare il modulo di opt-in per far sì che ci sia un'ottimizzazione anche della raccolta di subscriber e un aumento della velocità con cui raggiungete gli obiettivi che vi siete posti. Diciamo che in Italia ci sono diverse scuole di pensiero sul modulo di opt-in. Io intendo modulo di opt-in anche quello in cui metti i tuoi dati per avere un freebies, non solo quello che riguarda la newsletter. In Italia ci sono diverse scuole di pensiero sui campi da chiedere. Per chi vende all'estero spesso può bastare anche il solo campo dell'email, ma l'italiano è una lingua veramente con tante sfumature e molte di sicuro più dell'inglese, perciò in Italia si è soliti chiedere sia il nome che il cognome. Ovviamente in Italia bisogna anche chiedere l'autorizzazione al trattamento dei dati perché abbiamo la legge sulla privacy. Vediamo quindi ora 11 posizioni in cui inserire il modulo di opt-in. La prima è senz'altro l'about page. L'about page è la pagina più importante perché è una delle più viste del sito. Se date uno sguardo agli analytics ve ne accorgerete senz'altro. È possibile quindi sfruttare questa pagina per avere moltissime iscrizioni al modulo di opt-in. C'è Pat Flynn di smartpassiveincamp.com che afferma che la sua about page converte il 400% in più delle altre pagine. Ora non so quanto siano veritieri questi dati, probabilmente lo sono, ma la pagina resta comunque una pagina strategica. Per cui ho individuato almeno tre punti in cui in questa pagina può essere inserito il modulo di opt-in. Cominciamo da in fondo alla pagina. Se voi vedete in fondo alla mia pagina di opt-in trovate appunto il modulo e il form di richiesta per scaricare il mio libro Emergere su Periscope. Trovo giusto che arrivato al fondo della mia storia un utente che è arrivato fin lì e abbia letto tutto, abbia magari voglia di fare un passo in più e gli suggerisco io quale, che è quello di compilare i vari campi. Un'altra persona che potete prendere ad esempio che fa la stessa cosa è Amy Porterfield. Anche lei alla fine della sua bio ha il modulo di opt-in. Appunto come vi dicevo prima a Pat Flynn di smartpassiveincamp ha lo stesso tipo di sistema. Quindi il modulo della newsletter al fondo della about page. Il secondo punto nell'about page dove può essere posizionato questo modulo è a metà della stessa. Come vedete io qui ho messo un banner giallo abbastanza evidente che invita gli utenti a scaricare e emergere su Periscope. Non è bello chiaramente interrompere il flusso di lettura delle persone ma alla fine io ho scritto questa cosa per avere comunque un ritorno e l'utente che è veramente interessato a quello che sto scrivendo fa un attimo una pausa, cerca di capire che cosa gli suggerisco e poi al limite se non gli interessa continua a leggere. Qui anche qui Pat Flynn di nuovo fa scuola perché di nuovo a metà della stessa pagina fa lo stesso tipo di ragionamento. Inoltre c'è diciamo il form sulla barra laterale anche qui potete vedere a lato diciamo le modalità con cui si può entrare in contatto con Pat Flynn. Un altro punto, il secondo punto in cui poter posizionare dei nostri 11 il modulo di Optin è la Hero Featured Spot. Quello che si chiama in gergo Hero Featured Spot non è altro che la parte principale della home page di un sito in cui l'interessato si mostra solitamente in una versione epica, eroica. Diciamo che c'è di solito la sua faccia, ne vediamo un esempio qui col sito del famoso formatore Michael Hyatt. Se guardate, proprio nella barra blu c'è il modulo per inserire i propri contatti, ecco ve lo faccio vedere un po' meglio. Anche Backlinko fa lo stesso tipo di ragionamento, solo bisogna scorrere un po', dipende ovviamente dalla tipologia della risoluzione che avete nel monitor, però subito sotto questa testata c'è il modulo per iscriversi. Melissa Cassera, che è una PR di Hollywood, anche lei ha lo stesso sistema, diciamo nella Hero Featured Spot. Se guardate Simon Sinek di Start With Why, la gestione è molto molto simile, ha solo un piccolo link, Get the most to inspire, e qui si apre un pop-up dove chiede nome, cognome e email, e chiaramente la possibilità di iscriversi agli appunti giornalieri, che poi non sono altro che tutti i post che lui fa, che ti arrivano direttamente alla tua email. Il terzo punto in cui inserire un opt-in form è alla fine dei post. Qui vediamo una pagina di Leadpages, che ogni volta che scrive un buon contenuto su come si può ottimizzare una Leadpage, ci mette la possibilità di scaricare un tutorial. Anche l'Alessandra Farabegoli fa lo stesso, alla fine della sua pagina c'è il richiamo a iscriversi alla sua newsletter. Un altro punto strategico è lo stesso ragionamento speculare ovviamente a quello che abbiamo fatto all'AboutPage, cioè le cose buone dell'analisi di quella pagina le possiamo utilizzare anche nei normali post, e ovviamente nelle altre pagine è a metà del post. Anche qui ho rimesso il mio banner giallo dove invito a scaricare il mio e-book. Vedete, eccolo qui. Backlinko fa più o meno lo stesso, vedete che c'è il banner giallo di nuovo, e chiaramente anche lì ci può scaricare una checklist, un giveaway, un tutorial, qualsiasi cosa per poi chiedere i dati. Sidebar. Bene, la sidebar è un luogo classico, la barra laterale, in cui si può mettere l'opt-in. Diciamo che è un posto ricorrente in cui gli occhi dell'utente cadono spessissimo, quindi se andate a vedere anche altri gestiscono questa cosa esattamente allo stesso modo come ho fatto io, perché semplicemente è la maniera più semplice per far sì che gli utenti visitano un sito una volta, lo visitano due volte, lo visitano tre volte, alla fine sbattono con gli occhi sempre in quell'angolo dove nella colonna è riportato il vostro modulo di opt-in. Questa è una modalità molto semplice, molto semplice per poter portare a casa tanti contatti. Il sesto punto che vorrei trattare è la landing page dedicata. Bene, il modulo di opt-in va inserito assolutamente all'interno della landing page, specialmente quando noi investiamo tempo e denaro per sfruttare i motori di ricerca. Cioè tutto il traffico che arriva dai motori di ricerca va indirizzato in una pagina esaustiva per l'utente che gli dia subito quello che vuole, ma al contempo che possa essere sfruttata da noi come visita, questa dell'utente, affinché anche noi possiamo chiedere qualcosa a lui. Ritorniamo sempre al punto di vista base dell'inbound marketing. Quando noi diamo un contenuto a valore, l'utente è ben disposto e magari ci segue anche quando gli chiediamo di fare qualcosa per noi. Quindi vedete che questo è un altro modello, ad esempio, di pagina di landing page. Io in questo caso per realizzare questa qui ho usato OptimizePress, ma si può usare Leadpages, che sono moduli o servizi che riescono a generare landing page utilizzando dei template. Il vantaggio non è solo di semplificare la vita a chi struttura il sito, che poi se lo può fare la landing page come uno meglio crede, ma è ricorrere a dei template per standardizzare le best practice. Quindi sicuramente c'è un know-how, c'è un affinamento che arriva col tempo e questi template hanno un grosso potenziale in fatto di conversione. Un altro posto dove poter mettere il nostro modulo di opt-in è nell'exit pop-up. Questa è una pratica su cui esistono giudizi contrastanti perché consiste nel far apparire brutalmente un pop-up contenente il modulo di opt-in proprio mentre si sta per lasciare la pagina. Cioè è come l'ultima speranza che ha il gestore del sito per intercettarvi mentre vi state allontanando e lui, paf, vi fa apparire in faccia questo pop-up. Ora, sembrerebbe a primo avviso una modalità un po' brutale, però siccome tutti i grandi, come anche Social Media Examiner fanno, ecco probabilmente questo è un sistema molto valido e che ha un grande ritorno. L'ottavo punto è sicuramente un punto molto interessante ed è il guest post. Questo è un punto, diciamo, un'opportunità che fa vedere moltissimo di voi e che se riuscite a sfruttare sottolinea il grande carisma che avete, le grandi competenze che avete perché solitamente non si ospita su un proprio sito il posto di un altro senza che quest'altro sia veramente capace di non deludere la nostra audience. Quindi dimostrate un grande carisma, una grande leadership. Il fatto sta che nel guest post, a questo punto, cosa vuol dire? Vuol dire che mentre voi scrivete per pubblicare il vostro post su una piattaforma che non è il vostro sito, inserite all'interno un link come questo qui che vedete evidenziato in rosso in cui se l'utente clicca sopra parte e va direttamente nel sito di chi scrive il post. Quindi diciamo che prende gli utenti di un sito diverso e li porta sul nostro. è molto ingegnosa, chiaramente non è facile avere un buon rapporto con chi ti ospita tale per cui si fida e ti lascia fare questo tipo di manovra. Un'altra posizione molto curiosa che spesso viene sottovalutata è quella del footer. Ad esempio qui vediamo il sito di Miriam Berto, lei è una che sfrutta il footer in maniera abbastanza precisa per raccogliere email. Il footer è una di quelle opportunità spesso tralasciate perché a volte ci si mettono dentro cose a basso valore aggiunto per noi quando invece è molto importante poter sfruttare le possibilità che può dare questo spazio di sito. Qui vedete un altro esempio è sempre backlink o anche loro alla fine hanno il modulo di raccolta delle email alla fine proprio nel footer alla fine 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 di ogni pagina. La posizione numero 10 in cui poter mettere il nostro opt-in form è sopra la testata del sito. Qui vediamo Smart Passive Income che apre una specie di tendina sopra il sito con scritto Get It Now e se clicchi qui lì praticamente si apre l'opt-in form. È una posizione che può essere valutata diciamo che dipende un po' dai tipi di contenuti ma sicuramente è una posizione accattivante perché se la tendina viene giù proprio all'inizio della navigazione del sito l'utente non fa altro che far cadere il suo occhio sull'unica cosa che si muove e quindi è una posizione che spicca capace di attirare l'attenzione dell'utente. L'ultimo punto che vi volevo segnalare in cui poter mettere l'opt-in form è in una sorta di splash screen. C'è chi come John Lee Dumas di Eonfire preferisce coprire tutto il sito con una grandissima immagine che ha fondamentalmente due sole azioni che possono essere fatte su di essa cioè o lasciare l'email o andare avanti e continuare nel sito ma questo occupa tutto questo splash screen occupa non è un pop-up ma occupa tutta la facciata del sito e quindi è una cosa abbastanza invasiva e la prima volta non potete fare altro che notarlo. L'unica azione da fare è riempire con la vostra email questo tipo di campo e procedere. È un sistema interessante che mi piacerebbe sicuramente provare. Magari fra qualche mese o quest'altro anno mi piacerebbe poterci fare qualche esperimento e vedere se converte veramente tanto. Ora riassumendo abbiamo visto l'about page in tre punti l'eurofeature spot alla fine dei post a metà dei post nella barra laterale creare delle landing page dedicate con l'opt-in form l'exit pop-up il guest post molto potente e sicuramente con una grande funzione evocativa nel footer inserire l'opt-in form nel footer sopra la testata quindi dalla parte opposta all'inizio del sito e nello splash screen. Se quello che vi ho detto può esservi sembrato utile a fare emergere in voi qualche domanda potete lasciare sicuramente i vostri quesiti nei commenti oppure se avete piacere di restare in contatto con me potete ascoltare il mio podcast www.merita.biz barra podcast lo trovate sicuramente su Stitcher su iTunes e prossimamente su Google Play appena aprirà la parte dei podcast in italiano e se vi va potete scaricare il mio ebook gratuito e emergere su Periscope sempre su www.merita.biz vi ringrazio ciao e a presto